Come si vede? Bene. Sei bene? Si. Lui non ce l'ha registrato. Vediamolo John. I capelli che sono questi capelli? Di Amsic. Amsic. I capelli di Amsic. Non si tolgono. I capelli di Amsic. Non mi metto. No, dove sto aggiustando? Ecco, adesso sono proprio Amsic. No, così, basta. Voglio mettere quella cosa. Dai, fermo. No, dove vuoi? Mettere la gelatina? Eh. Fai presto. Ho la gelatina. Ho la gelatina. Ho la gelatina. Ho la gelatina. Troppo qua di mano. E' fatti? Si. Lo vede? Oh, come sono belli questi capelli. Vediamo bene, vediamo. Faccio abbassare la testa. Guarda qua. Oh, come fungono. E questi sono i capelli di Amsic. Quando mai. Ah, sì. Ah, sì. Ma quando mai. È bello. Adesso andiamo allo zoo. Portiamo Stefano allo zoo. e lo lasciamo nella gabbietta con le scimmiette. Eh? Ti fatti? Non si vede bene. Non si vede bene? Che cosa non si vede bene? Si gira. Guarda, io faccio così. E io faccio così. E io faccio così. E io faccio così. La messa a te fermo, eh. Guarda, non... non mi vuole? Pham vedere questo? Questa. Questa, bollana. Guarda, io faccio questo tempo e dopo frango relli. Eh, che buco? io faccio qua e io faccio qua e non va così. Andiamo a vedere leone? Le tigre. e non va così! Non capisco che va. eh fai così e non vedi eh che stai facendo? eh ho fatto qua ah ah giustamente la telecamera fa un effetto specchio quindi quando uno si gira così non è che si gira a sinistra anche sulla telecamera sul mondo si vede a destra e lui si sta angrippando perché mi gira a destra? a destra mia nel compito si gira a sinistra perché sei un mago? ma io non l'ho fatto qua e l'ho fatto qua ti capisci che fa? fa pure le tele qua anche io guarda così va bene andiamo allo zoo dai che ci stanno le scimmette che ti stanno aspettando poi ti prendi una schiaffa però alla prossima